a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questa nuova recensione e oggi siamo qua a parlare di un film horror che ho visto e ho noleggiato a 5 euro su amazon prime video io mi sono pentito che con 5 euro ci avessi fatto qualsiasi altra cosa tranne che non leggere sto film questo film nessuno ne ha parlato su youtube come sempre io vi invito a iscrivervi al canale lasciate un mi piace commentare per supportare quello che io sto sopportando vi giuro per salvarvi da questa monnezza per salvarvi i vostri soldi e quindi se volete supportarmi gratuitamente potete fare questo se invece volete fare qualcosa di più c'è super grazie parliamo di inumano in inglese in human ho detto dalle premesse dalla copertina c'era brianna che l'abbiamo vista nella serie di so cosa hai fatto e anche nel videogioco the query che è quella questa ragazza orientale quella è la protagonista abbiamo la produzione blue mouse e la distribuzione sony pictures e siamo di fronte a una cacata di film vi giuro una merda aveva delle ottime premesse aveva delle ottime forse idee ma il problema è che è tutto gestito male è tutto così fatto proprio a cazzo di cane va bene che blue mouse i suoi film sono sempre film a basso budget cioè budget di 5 8 milioni e si cerca di fare il meglio che si può però non sono di fronte che ne so a the hunt o altri film degni di blue mouse qua siamo a un altro film del cazzo un po come five night freddies che però quello penso che ci ha incassato con five night freddy questo newman penso non ci ha guadagnato manco di sordi che hanno pagato il cast per dire ma partiamo alla trama abbiamo questi la nostra pronista ovvero interpretata da brianna tu la nostra orientale che è una classica ragazza e si vergognano si veste tutta quanta a modino non si fa vedere mai le sue forme eccetera poi c'è una scienza della sua amica che è un po' più libertina si fa vedere un po' di più nel senso è un po' più vestita che si fa vedere la pelle ecco perché quella è tutta coperta quindi hanno questa gita in bus questa gita in bus si trasformerà in un incubo ovvero usciranno fuori strada e partirà questa pandemia questa epidemia zombie e ho detto ma forse ci divertiremo no quando mai quando usciranno questo bus entreranno in un cazzo di casolare abbandonato vi giuro sì sì proprio un appartamento abbandonato e il film sarà tutto dentro questo appartamento di merda no non è come il film The Horde che era un film con i controcoglioni no questa è una merda abbiamo una regia veramente così fiacca anche nelle scene d'azione cioè ti cachi la minchia vi giuro mi sono dovuto bere delle monster per sopportarlo per andare avanti abbiamo dei personaggi idioti ma gli dicevano ma i film more ci sarebbero essi personaggi idioti sì ma fino a un certo punto perché questi sono veramente con la 104 tutti quanti veramente ma anche la protagonista Cristo Dio cioè ma almeno fammi qualcosa di più decente qua proprio sono veramente dei rincoglioniti completi e lo so dicevano forse è una scelta no fare questi personaggi ma sì e no nel senso c'è il secchione un po' come gli anni ottanta sembra un film che voleva essere anni ottanta è uscito nel momento sbagliato ma che neanche riesci a prendere il meglio degli anni ottanta che stavo mettendo delle scene splattere ma quando mai non c'è un cazzo manco in quel lato non si vede niente niente sì qualcuno dilaniato poco e niente di dilanezione qualche naso rotto ma un braccio forse che vola ma nient'altro ci saranno sottontro rotture di coglioni luce a neon sparata vi giuro una volta era questa cosa delle luci da quando vi giuro è colpa di wending refn che io adoro il regista con neon demon da lì in poi tutti a copiare il suo stile con ste cazzo di luce a neon porca di quella troia tutti i film mettono sempre con ste luci a intermittenza il rosa il blu il rosso non si buttano così i colori a minchia se tu alla fine non hai un buon direttore da fotografia non sei bravo a gestire queste cazzo di luci a metterle bene anch'io allora metto delle quattro cazzo di led da minchia di cane e io poi pretendo che il mio film diventa veramente un bel film perché ci sono le luci colorate no è un film del cazzo con le luci colorate diventa poi dopo tutto adesso abbiamo pure la svolta il colpo di scena un colpo di scena che nessuno si aspetterebbe manco io m'ho sospettato perché è così una stronzata messa lì nella sceneggiatura che non ve la voglio dire ma uno dice what the fuck uno dice che cazzo è veramente cioè ma stiamo scherzando ho detto no invece la verità cioè quello che la rivelazione del film è in realtà io ho detto no non ci voglio credere io proprio io stesso ho detto mai rifiuto no ho detto io mi rifiuto porca puttana a vedere una stronzata del genere no perché è così ragazzi c'è una stronzatona che a che succede che io vi giuro non me lo aspettavo mai nella vita ma ma c'è accade quindi dopo questo colpo di scena inizia ad essere c'è un minimo interessante riesce a prendere un po' di interesse dopo 50 minuti di film che il film dura super giovane 90 minuti e mi dice ma forse un po' di interesse no con tutto ciò che c'è questa questa idea che è uscita così a cazzo alla fine il film non si salva carino il monologo della spiegazione di questo colpo di scena nel senso carino nel senso il monologo è una cosa veritiera nel senso di quello che succede fino ancora oggi e non vi posso spiegare che se no vi faccio capire che cosa cosa è la svolta il problema che il film non funziona niente né nel montaggio né nelle recitazioni dei personaggi non ve ne frega niente di loro non vi interessa né se vivono se muoiono un'unica cosa che voi sperate che il film finisca al più presto questo è non vedete l'ora che finisce perché dici sai ma loro ti mettono personaggi antipatici un po' come altri slasher del genere no nel senso che che poi non parliamo di uno slasher un film con gli zombie ecco ve lo voglio ricordare nel senso quindi c'è un odio nei confronti loro invece no non ve ne frega una minchia capite non ve ne frega un cazzo proprio il disinteresse completo sono andato a vedere un po' i voti il 40 per cento l'ha apprezzato su google cioè va cioè vi fa capire un po' il 40 per cento ovvero un ente 4 persone su 10 l'ha apprezzato altri 6 si sono rotte il cazzo capito cioè quindi non è che sto solo io il divanotti c'è un sito che prende fare 100 gli ha messo 1 1 su 5 1 quindi se mi venite qua sotto dice ma iva non l'hai capito ma è un film bello è un film così no dovete andare a cacare va bene e non mi devi dire ama brian io me la metto a pegola è bellissima a me sinceramente non mi fa impazzire fosse meglio l'amica per me ah poi su gusti quindi cos'altro vi devo dire niente se volete buttare i soldi andate a vedere è disponibile per tutti a prenderla in quel posto vorrei parlare un po' un attimo dello spoiler e poi ci ci salutiamo quindi se non nessuno gliene frega niente di so film si ascolta il colpo di scena e poi va avanti per la sua vita quindi io vi saluto a tutti come sempre fate tutto quello che dovete fare per supportare il canale partiamo con lo spoiler allora si scopre che tutta sta pandemia è tutta una cazzata cioè praticamente sono tutti questi ragazzi che sono stati bullizzati sono stati praticamente trattati da merda con anche un un altro bullizzato che negli anni 90 è stato bullizzato praticamente per colpo di questa cosa di bullismo che ha ricevuto la sua vita è stata rovinata perché praticamente anche se tu vai oltre verresti mobilizzati cioè quando inizia a scuola la cosa te la trasporti se proprio hai subito così tanto un malessere anche un vivi male ecco quindi questo quasi anche lui si voleva indicare sul preside che lui andava a scuola col preside che era un bullo c'è con il professore tutte queste cose proprio il tizio che prende anche col tizio che guidava il bus era messo d'accordo con gli altri ragazzi proprio per fare questa cosa e fare cagare in mano no spaventarli ma anche se qua se ci scappa qualcuno che si fa male qualcuno che more però vabbè sì ci sta il monologo di questo poveraccio che prende dice alla fine io non me ne sono liberato più del di quello di quello che ho subito e mi hanno rovinato la vita anche se non ci sto andando più a scuola io ho subito e ancora continuo a subire da questa gente che è diventata grande a ancora continuare a bullizzare i più deboli o chi non ha il coraggio di reagire io poi voglio raccontarvi un voglio fare un video penso che nessuno sia arrivato in questo momento quindi sarà una cosa buttata lì quindi chi la sentirà sentirà io penso un giorno farò un video proprio per colpa del bullismo che ho ricevuto io a scuola io per l'interno non ho avuto il coraggio di aprire subito un canale youtube nel lontano 2012 quindi fatevi il conto voi che cosa può causare una cosa del genere poi mi sono preso di coraggio eccetera poi sono cambiato diciamo ho voluto voltare pagina e non dare più questa forza alle cose brutte che mi sono accadute quando ero più giovane e quindi sono andato oltre me ne fotto quante volte ricevo insulti nei commenti ma io me ne frega il cazzo e continuo a farmi le mie recensioni e sono sempre qua niente questo è tutto questa alla fine è ricolpa di share non vi dico come finisce perché veramente ho voluto anche quasi anche dimenticare è inutile dirvi cosa succede tutto tarallucce e vini quasi quasi finisce cioè finisce così alla fine quasi quasi è tutto a posto è si urla cazzo perché si torna a casa perché il professore veramente ancora vivo tutto dilaniato si urla così aaaah così esce e finisce così un film del cazzo mi ripeto io come sempre vi ringrazio se sei fino a qua mi fa piacere ma penso che non tutti arrivano a vedere tutto il video ci vediamo al prossimo video sperando che ve ne so vi porto un bel film horror vi porto qualche qualcosa di valido ciao